Mi è stato dato un numero confortante dal punto di vista della qualità servizio-manutenzione, perché rispetto all'utilizzo complessivo, gli ascensori nella tratta Fermi-Porta Nuova hanno garantito il 98% della copertura del servizio, le scale mobili tra Fermi e Porta Nuova il 94%, gli ascensori tra Marconi e Lingotto il 99% e le scale mobili tra Marconi e Lingotto il 96.7%. Abbiamo avuto una sorpresa. Noi abbiamo registrato un'avaria alle scale mobili che non era preventivata, essendo queste scale mobili gestite per avere una manutenzione. La prima manutenzione è prevista dopo i 12 mesi, le 8 scale mobili interessate nel primo quadrimestre, invece le problematiche sono state più alte rispetto alla statistica che immaginavamo e quindi anche il riperimento dei pezzi di sostituzione è in corso e speriamo di poter risolvere definitivamente questo problema. Il servizio di manutenzione delle scale mobili, che sono 129, degli ascensori che sono 67 delle 21 stazioni della metropolitana di Torino è stato affidato a seguito di una regolare gara di appalto alla società Otis. Il servizio di manutenzione comprende tutte le attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, il presenziamento in orario di urno feriale per il pronto intervento, la reperibilità nei restanti periodi e la conduzione delle previste prove periodiche per legge, invece sono esclusi gli eventi causati da forza maggiore, quindi ad esempio quelli di vandalismo. Voglio segnalare ai consiglieri, che so che sono attenti anche a questo tipo di problematiche, che stiamo intervenendo direttamente per la sostituzione di questi pezzi senza nessun costo per l'amministrazione.